Decine di uomini del soccorso alpino dei Vigili del Fuoco, specialisti SAF, Neve, Unità Cinofile, volontari di protezione civile, carabinieri coordinati dalla sala operativa del posto di comando avanzato attivato presso gli uffici del comune di Bienno. Anche il primo cittadino sta seguendo personalmente le operazioni al lavoro per cercare Domenico Carrara Bidello, 33enne, originario di Avellino, di casa e con lavoro a berzo inferiore scomparso da questa domenica pomeriggio sui monti di Bienno. Amava camminare anche questa domenica. Domenico era partito per un'escursione in zona. Il suo padrone di casa non vedendolo rientrare in serata ha diramato l'allarme per il mancato rientro. Pare che abbia lasciato il cellulare in casa. Le ricerche sono partite già nella serata di Domenica ad opera dei carabinieri della stazione di Esine e della compagnia di Breno, ma il buio le ha interrotte fino a questo lunedì mattina quando sono riprese con grande spiegamento di forze. In campo ci sono tutti gli specialisti del soccorso in ambiente ostile e la ricerca persone. La mattina ho ricevuto la telefonata dei carabinieri che mi informavano di questa scomparsa per cui ho attivato tutte le procedure del caso. Abbiamo costituito un'unità operativa qua in comune presso il nostro ufficio tecnico per cui tutti stiamo lavorando per cercare di trovare quanto prima questo giovane scomparso. C'è grande collaborazione in campo. Dalla sala operativa, gli specialisti delle tecniche di soccorso del soccorso alpino e dei vigili del fuoco tracciano le zone di ricerca ed organizzano le squadre che quindi vengono distribuite sul territorio. Nulla è lasciato al caso. A quote più basse operano squadre miste, unità cinofile e volontari di protezione civile. In quota si spostano gli specialisti del soccorso alpino e di SAF dei vigili del fuoco che sono stati portati in zona dal Drago, l'agusta 109 del Lili Nucleo e dei vigili del fuoco di Malpensa, che in mattinata ha imbarcato anche i volontari del soccorso alpino per raggiungere le quote più elevate, dove sarebbe stata segnalata la presenza di Domenico o comunque di una persona, che non era però attrezzata per escursioni in alta montagna, con presenza di gran quantità di neve come in questi giorni. Non si trascura nessuna pista. Anche l'elicottero del 118 con a bordo il tecnico del soccorso alpino avrebbe effettuato alcuni sorvoli in zona nel pomeriggio. Le situazioni che si occupano della ricerca si stanno interfacciando per capire dove indirizzare le ricerche. In base alle testimonianze, al momento stiamo concentrando le ricerche verso la zona di Versante San Lisente e i monti appena appena sopravvienno. La parte alta sì, c'è neve, nella parte bassa boschiva, terreno un po' ghiacciato ma senza neve. Come sempre in queste situazioni di ricerca c'è collaborazione fra le varie istituzioni, soccorso alpino, vigili del fuoco, protezione civile e autorità locali, carabinieri ovviamente. Come in ogni occasione in questo caso abbiamo messo in campo tutte le risorse a disposizione quali unità cinofile, elicottero Drago 80 che decolla dalla Malpensa per portare il personale in quota e congiuntamente al personale del soccorso alpino la ricerca sta proseguendosi.